Ben ritrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La presenza del campo anticiclonico sull'Europa occidentale determina condizioni di generale stabilità. Un impulso freddo lambirà il settore orientale della penisola italiana, determinando nel fine settimana un calo delle temperature anche sulla Liguria, ma senza fenomeni associati. Oggi, giovedì 26 ottobre, avremo una giornata prevalentemente soleggiata con nubi sparse o sottili verature. Dal torno pomeriggio un debole flusso meridionale nei bassi strati favorirà un graduale aumento della novolosità più compatta nelle ore serali sul centro e sul ponente. Venti deboli dei quadranti meridionali localmente moderati sui capi esposti di ponente e sulle zone centrali. Mare poco mosso, tra poco mosso e quasi calmo sul centro e sul levante. Temperature massime stazionari lungo la costa tra 20 e 22 gradi, nelle zone interne tra 20 e 22 gradi. Domani, venerdì 27 ottobre, la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti, possibili deboli piogge sparse nella notte e nel corso della mattinata. Dal pomeriggio, ampie schiarite e condizioni gradualmente soleggiate grazie all'instaurarsi di una ventilazione settentrionale. Venti deboli dei quadranti meridionali al mattino in rotazione da nord, dal tardo pomeriggio con possibili raffiche in serata, fino a 70-80 km orari. Mare in aumento dalla mattinata fino a mosso per l'intera giornata. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 12 e 18 gradi, nell'interno intorno ai 5-6 gradi. Massime in diminuzione lungo la costa tra 19 e 21 gradi, nell'interno tra 20 e 21 gradi. Chiudiamo con la giornata di sabato, 28 ottobre. Al mattino ancora 20 dai quadranti settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Pomeriggio soleggiato con qualche nube sparsa localmente più compatta nelle zone interne. Sulla costa di Levante venti in prevalenza deboli fino a metà mattina dai quadranti settentrionali in rotazione da sud-sud-ovest al pomeriggio. Mare inizialmente mosso, in calo a poco mosso sul centro e gradualmente anche a Levante. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 10 e 16 gradi, nell'interno tra 2 e 4 gradi. Anche le massime saranno in diminuzione lungo la costa intorno ai 18-19 gradi, nelle zone interne intorno ai 16-17 gradi. Seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci.